Ecco, buongiorno a tutti ragazzi, spero di riuscire a contattarvi anche attraverso il telefono. Per adesso vi do delle indicazioni su il capitolo nuovo che vi ho dato da fare, sul registro elettronico, il marketing e la comunicazione aziendale. E' a pagina 270 fino a pagina 292, quindi fate tutto il capitolo, riassunto, cosa vuol dire riassunto? Vuol dire anche schema, con i concetti principali, quali sono i concetti principali? Sono quelli in eretto, bene, quindi quelli scritti o sottolineati in eretto e i concetti collegati a questo, quindi le definizioni e i ruoli. Il marketing management, sto leggendo il libro, gli strumenti di conoscenza del mercato, il marketing strategico, il marketing operativo, la guerriglia marketing e il marketing esperienziale. Fare il test di verifica alla fine del capitolo. Quindi oltre i riassunti, mi raccomando, anche schemi, va bene, non mappe concettuali, schemi, vuol dire quindi concetti e spiegazione dei concetti in sintesi e test di verifica alla fine del capitolo. Grazie, ciao ragazzi!